Io prima mi sono arrabbiato perché rifacciamo le stesse cose, era esattamente il 30 giugno, c'era tu, c'era Ragnini, non ricordo gli altri e abbiamo detto il 30 giugno le stesse cose. Per quanto riguarda i permessi, il primo, quello del 2003, io l'ho ripetuto per cento volte, la prossima volta, fu rilasciato dal dirigente dell'etica, poi mandato via, perché di fronte al bisogno di pagare 800 milioni di saccimento d'anni, personalmente, ha rilasciato il permesso e basta, e lascia non è così. Ma non è così, lascia non è così, è così. E' vero che ha risposto. Credo che tu sia abbastanza informato per sapere quelle che sono le competenze di un sindaco e quelle che sono le competenze di un dirigente. Io faccio un esempio banalissimo, per il motivo per cui il via, anzi la via, la presuppatementà alla regione, la rilascia un dirigente e non l'assessore, perché sono competenze che la legge riconosce a quel soggetto dove la politica, nelle questioni tecnico-giudiniche non può intervenire. faccio un esempio banalissimo, che può essere... Chiedo scusa, chiedo scusa. Ma perché devo leggere lei quello che diceva Giamino? Giamino, 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 anche io non le spolevo, poi consiglio. Non è quella cosa, posso avere la possibilità di parlare, Giamino. Tu dimentichi però due questioni, che quando il comune di Modugno ha rilasciato il primo permesso a costruire, quel dirigente è stato mandato via e quel permesso a costruire è stato revocato. E' vero o no? La sentenza del Taro, del Consiglio di Stato, che cosa dice? E' vero o no? Il comune di Modugno l'ha revocato. Qui la legge, quella è storia. Io posso revocarlo con un bel fiocchetto, ma se all'interno c'è scritto una fesseria, può interviene la magistratura amministrativa. Io voglio chiedere, per quale motivo il comune di Modugno ha sempre seguito la strada della magistratura amministrativa e non quella penale? No, nella maniera più assoluta, scusami, perdonami, perdonami, perché io vedo ancora una volta, purtroppo, di dover ripetere tutte le cose. I due permessi a costruire sono stati tutti e due revocati e guarda caso i due dirigenti sono stati tutti e due sostituiti. Perché il secondo è stato revocato? Perché il secondo è stato revocato? Perché? Perché il secondo è stato revocato? Io ho sentito uno dal pubblico ed è la verità. Io non sapevo, purtroppo, che fosse stato... Io non sapevo, non sapevo, non sapevo... Amico mio, ma lasciami parlare! Ma posso dire dieci parole insieme senza essere interrotto? Posso dire dieci parole insieme senza essere interrotto? I due permessi sono stati revocati. Del secondo non ero a conoscenza. Sì, perché appena lo saputo ho preso provvedimenti, amico mio. E questo lo sai bene. Ma vedo che in te, purtroppo, ormai, la strumentazione politica... E lasciami, e lasciami, e lasciami completare, e lasciami completare... Perché è grave quello che dici... Gianluigi, lascia completare e poi parli. No, mi devi lasciar parlare. Allora, tu hai detto una cosa. Perché il Comune di Mojurio non si è rivolto alla magistratura? Io ti porto una serie di atti. Primo, almeno 18 documenti, almeno 18 documenti nel quale il Comune ha presentato, esposti alla magistratura penale. Perché è stato revocato il secondo permesso? Perché? Abbiamo revocato il secondo permesso a costruire? Perché? Perché alcune particelle non erano nella proprietà di questo soggetto. Quando il Comune di Modugna ha saputo questo? Ma sarà stato... Ma sarà stato nel 2008 o lo sapeva già dal 2003? No, non lo sapeva assolutamente. Allora, il permesso a costruire. Cioè, il permesso a costruire del 2003. Lo sapevo. O leggo, ma... Non lo so, vorrei leggere un insieme. Scusate, mi lasci completare l'intervento e poi puoi leggere tutto quello che vuoi. Scusate. Per quanto riguarda le centraline che tu hai citato, quel provvedimento di 264.000 euro riguarda tutta una serie di interventi nel settore ambientale, non solo le centraline. Le centraline sono costate, credo, circa 150-160.000 euro. Noi, da un lato, abbiamo iniziato, da giugno, e io ti consegno, Gianluigi, Gianvinto, scusami, consegno a tutti quanti voi, il rapporto. Quindi, quello che voi vedete, il monitor che voi vedete davanti all'assessorato, ai servizi sociali, al momento, riportano solo i dati relativi alle emissioni delle automobili. Per quanto riguarda invece le centraline, quelle che devono monitorare anche le polveri sottili, anche le polveri sottili, sono state installate, sono pronte, manca l'autorizzazione, perché noi con l'APA abbiamo già nominato l'esperto dedicato dall'APA, la dottoressa Maddalena Spirone, che è quella che diventa garante, Gianluigi, che per quanto riguarda queste osservazioni, noi facciamo un primo manifesto preventivo, diciamo, guardate, cittadini, state attenti. Io non posso mai contropattere. State attenti. No, perché sono tutte inesattezze, scusatemi, ora però datemi la possibilità, perché sono inesattezze, se continuiamo a ripetere inesattezze, inesattezze, lasciami completare, lasciami completare, lasciami completare, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, andiamo, e poi andiamo, e poi andiamo avanti. Ti stavo dicendo, quest'estate, siccome è agli altri, perché le cose come si trattano, noi abbiamo fatto non soltanto i manifesti per avvisare tutti quanti che, ma io spesso personalmente a tutte le associazioni, invitandole a presentare le osservazioni insieme al Comune di Moduglio, per dar forza al gruppo. Questo, ma nessuno l'ha negato. Perché io sto parlando, attenzione, estate 2007. Perfetto. Se poi si fraintende, si vuole capire altre cose. No, 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 no. Lo sapere non c'è da niente di questa situazione. No, volevo dire. Eh no, prima abbiamo parlato di lo sapere, volevo dire, volevo dire, che lo sapere, che la circostanza che fosse necessaria alla mia fu resta nota a tutti quanti noi. No, 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 no. inesattezza, ma voglio dire, le cose non stanno così, ma questo non cambia così 20 minuti, ma le cose non stanno così, ma le cose non stanno così, ma la vostra conferenza stanno così, voglio chiarirvi, va, scusate, 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 posso, 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 io ho questa abitudine, scusate, quando parla qualcosa, non interrompo mai, anche quando riesci ne sa te, però a me non si è data possibilità di recubblicare, mi hai detto che ho detto delle cose fatte, c'è qualcuno che istiga anche il pubblico, quando tu intervieni, perché lui è intervenuto presso Agostino Di Ciao a dire chiudi, chiudi, chiudi quando tu parli, e allora non lo devi fare solo con noi, scusate, lo devi fare anche con gli altri, tu intervieni in qualità di che cosa, di moderatore, di confronto, la donna è qui, la donna è qui, della quale, della quale, della quale situazione, io devo dire, delle questioni, delle questioni, allora, fermatevi, fermatevi, ragazzi, chiudiamo.